una buona giornata cari amici ben ritrovati si suol dire che l'epifania porti via tutte le feste in realtà questo turno completo dell'epifania in serie A ci ha portato via tutte le certezze perché il campionato dopo una prima giornata del 2021 in cui avevamo detto hanno vinto praticamente tutte le big tutte hanno ripreso con il passo giusto invece nella seconda abbiamo visto un capovolgimento completo dello status quo anche se in realtà non è cambiato niente perché ha perso l'inter ha fallito la possibilità della nona vittoria consecutiva ha perso una gara in attesa a genova anche se va analizzata la sconfitta dell'inter contro la sampdoria ma ha perso anche il milan lo scontro diretto con la juventus milan che forse ha lasciato da parte una grande occasione di fare il vuoto però paradossalmente questa è una sconfitta la prima in campionato per i rossoneri che non costa poi così tanto a patto di riprendere immediatamente la marcia già nella partita di sabato sera contro il torino chi doveva vincere la propria partita era proprio la juve e lo ha fatto non con una prestazione esorbitante ma con la presenza di uomini decisivi una volta tanto non cristiano ronaldo bensì chiesa che testimonia ogni giorno di più ogni minuto di più ogni partita di più l'importanza che ha nel mondo juve nello scacchiere tattico di pirlo e soprattutto nelle possibilità che ha questa squadra di arrivare a vincere qualcosa nel frattempo ne ha approfittato la roma la roma che accorcia le distanze contro le prime due la roma che continua a mandare messaggi la roma che continua a vincere le partite che deve vincere per forza adesso però se si vuole alzare la sticella degli obiettivi la roma deve cominciare a vincere anche gli scontri diretti lì in alto e guarda caso domenica arriva un match golosissimo contro l'inter un'altra partita fondamentale per il campionato ma non solo quello che succede in alto anche chi in alto non riesce ad arrivarci come il napoli che ha incappato che ha incappato in una sconfitta quasi inspiegabile una sconfitta surreale al san paolo contro lo spezia però sono altri punti buttati via dalla formazione di gattuso mentre la lazio riprende il passo l'atalanta sta dicendo che dopo gli scossoni di qualche tempo fa è tornata ad essere la vera atalanta una macchina da gol inarrestabile il sassuolo comunque rimane lì e poi c'è la situazione in coda una situazione in cui il torino ha pareggiato contro l'ellas verona però io continuo a vedere dei piccoli segnali da parte della squadra granata che è forse una delle formazioni con la situazione più pesante era o probabilmente lo è ancora a livello assoluto e quindi questi sono segnali che possono avere una loro importanza ci sono neopromosse smaglianti come lo spezia e soprattutto il benevento ci sono squadre che stanno facendo risucchiare nello specifico il cagliari il genoa non riesce a tirarsi fuori ha perso ancora bologna udinese hanno pareggiato e non risolvono le loro situazioni insomma abbiamo tantissime cose di cui parlare in questo commento al turno di serie a è un commento che è già quasi una preview perché comunque si torna a giocare nel weekend e abbiamo partite molto molto importanti in alto roma inter su tutte ma è molto importante anche la gara del milan a san siro contro il torino perché ripeto il milan deve rispondere immediatamente così come è estremamente interessante il posticipo della domenica fra juventus e sassuolo e poi abbiamo un paio di incroci in coda che valgono punti doppi perché il bologna in casa del genoa deve ritrovare la vittoria che manca ormai da diverso tempo e soprattutto fiorentina cagliari è una partita direi quasi drammatica per cui cominciamo a parlare di quello che ci ha detto il pallone in un altro turno concentrato in un unico giorno nella serie a 2020 2021 iniziamo ovviamente dal grande clou dalla partita che attendevamo tutti il primo vero crocevia del campionato milan juventus ha vinto la juventus ha vinto 3 a 1 ha vinto sull'onda di chiesa il vero match winner il vero uomo copertina di questo match una volta tanto la juventus non ha dovuto dipendere da cristiano ronaldo che è stato se volete il grande assente nella partita degli assenti c'era in campo ma si è visto molto meno di altri ecco il peccato vero di questo milan juventus oltre a non aver avuto il pubblico che è una cosa sempre più pesante perché provate a immaginarvi una partita del genere con san siro pieno anzi non immaginatevela perché anch'io ho dovuto allontanare questo pensiero perché purtroppo non è ancora possibile dobbiamo renderci conto della situazione dobbiamo prendere quello che ci possiamo prendere l'altro grande peccato è stata appunto la vigilia funestata dalle indisponibilità dai nuovi casi di positività al covid la juventus che ha perso quadrado e alexandro e sembrava decisamente minumata da queste due assenze che si aggiungevano ad esempio a quella dimorata sempre piuttosto significativa per il calcio di pirlo ma al milan poi alla fine è andata addirittura peggio con le indisponibilità last minute anche di rebic e di crunic milan che non aveva ibraimovic che non aveva salema kerse che non aveva ben la ser che non aveva tonali squalificato che ha dovuto giocare addirittura con calabria in mezzo al campo si è dovuto inventare una formazione stefano pioli e ha perso la partita anche se paradossalmente come vi dicevo questa prima sconfitta della stagione in serie a questo ritorno ad assaporare il fatto di aver perso una partita per la prima volta dopo il lockdown non è una cosa che sconvolge più di tanto numericamente l'attualità del milan un po perché mantiene il primo posto un po perché comunque in una situazione così di emergenza in una situazione così difficile sul piano della prestazione il milan c'è stato la juventus ha vinto la partita ha vinto la partita anche con dei meriti perché poi ha saputo capitalizzare le sue situazioni però la partita sul piano del gioco l'ha fatta forse maggiormente milan c'è stato assolutamente protagonista è stata una partita anche con delle situazioni arbitrali sapete che io rimango sempre un po a margine di queste situazioni perché mi piace molto di più parlare di gioco parlare di giocatori anche se sono situazioni che entrano nello sviluppo della stagione e allora ho deciso di intervenire in questo senso vi prometto già per i prossimi giorni sulla sezione premium del nostro canale un video dedicato esclusivamente alla questione arbitrale ovviamente un dialogo con un esponente della categoria con qualcuno che mi possa dare dei riferimenti certi sarà il primo video del 2021 sulla sezione premium vi invito sempre ad abbonarvi è una sezione ricca dove ci sono molti dialoghi ci sono molti approfondimenti abbonatevi vedrete quello di cui sto parlando per cui parlerò ovviamente anche di quanto fatto dai rati dico solo che il rati in campo è orsato al var è quasi un controsenso orsato è forse il miglior arbitro di campo del nostro campionato e non solo il rati è indubbiamente il miglior arbitro var della serie a e non solo vedendo le designazioni che ha avuto in carriera ci sono stati episodi poco poco comprensibili sul gol di calabria c'è un chiaro fallo ad iniziazione così come il secondo giallo a bentancur mi sembrava decisamente netto più altre situazioni ma appunto torniamo a parlare di gioco il milan è riuscito a riprendere la partita dopo 10 15 minuti nella parte centrale del primo tempo in cui la juventus ha espresso il meglio della propria gara con questo chiesa demoniaco che ha colpito un pallo clamoroso di sinistro che ha segnato un gran bel gol portando in vantaggio la juventus su una rifinitura smagliante di dibala altro protagonista della serata paolo dibala quello che era mancato forse più di tutti in questa stagione la juventus dibala visibilmente non è ancora al 100 per cento ma il fatto che abbia messo il proprio marchio su una partita così importante con quell'assist di tacco da fuori classe qual è paolo dibala e anche con l'appoggio per il secondo gol di chiesa quello che ha riportato avanti la juventus e che ha deciso veramente la partita dalla dimensione di come dibala sia un'entità sia un capitale fondamentale per il destino della juventus deve ritrovare la condizione piena dal punto di vista fisico sicuramente forse anche dal punto di vista mentale il gol con l'udinese potrebbe avergli sbloccato qualcosa ha bisogno di continuità così come ha bisogno di continuità tutta la squadra ma la juventus si ritrova anche dibala si mantiene questo chiesa se continua ad avere anche da mckenny questo tipo di riscontri perché poi il neo della juventus continua ad essere in mezzo al campo e per questo la juventus che aveva l'obiettivo imperativo senza se e senza ma di vincere questa partita quindi una volta tanto come l'ha vinta conta relativamente questa era una partita da vincere perché è una partita che valeva il campionato della juventus però io sono convinto che per avere continuità per poi poter ambire veramente al primo posto ci sia in casa juve da trovare una una quadratura e una una piena potenza di espressione attraverso il gioco e il gioco si fa in mezzo al campo la juventus continua ad avere delle problematiche ad esempio menta ancora quasi irriconoscibile al di là del fatto che ha rischiato fortemente la doppia munizione quindi di lasciare la squadra in dieci nella prima parte di gara proprio in inizio partita ha perso due palloni pericolosissimi due palloni non da lui sta crescendo rabbio in mezzo al campo sta crescendo già da un po per me ha fatto una partita molto buona mckenny in questo momento è ai limiti dell'irrinunciabile però dove sta la situazione che non torna immaginando la juventus di pirlo prima dell'inizio della stagione io vi ho sempre detto rimango anche convinto di questo che la coppia bentancura artur sarebbe stata la base tecnica su cui costruire il gioco di questa squadra e invece questi sono giocatori che stanno mancando nel frattempo si sopperisce con gli altri quasi sempre con cristiano ronaldo che rimane il capo canoniera del campionato una volta tanto lui non c'è stato chiesa dominatore con la doppietta kliusevski anche lui con un qualcosa di tangibile di concreto di importante l'azione che porta al gol di mckenny del 3 a 1 che di fatto chiude le velletà del milan di bala ritrovato cesni sempre una garanzia cesni una garanzia ha fatto tante parate magari non eccessivamente scenografiche ma molto importanti nella partita il portiere della juventus ripeto queste sono le indicazioni che emergono da una gara che la juve doveva vincere per forza però per la juventus è solo la prima di un ciclo in cui la squadra di pirlo troverà di fronte altre partite del genere da vincere per forza perché il gap da colmare è ancora significativo e sono la partita con l'inter del 17 se non sbaglio e anche il recupero col napoli perché poi la juventus attualmente è a sette punti dal milan con una partita in meno 4 è una distanza diversa oltretutto questo vorrebbe dire non solo tagliare fuori probabilmente il napoli dalla corsa scudetto ma anche magari aver fatto risultato pieno contro l'inter a quel punto ma averne recuperati di punti la juventus è iniziato il suo ciclo decisivo per definire le proprie prospettive lo è iniziato con una vittoria dovranno seguirne altre mentre il milan ripeto per la prima volta perde in questo campionato ma è una sconfitta che prima o poi doveva arrivare il milan può può assolutamente consolarsi con quello che ha fatto vedere sul campo perché senza dei punti di riferimento basilari come vi dicevo anche una situazione che è cambiata proprio nel giorno della partita meno di 24 ore dalla partita il milan ha trovato risposte da calabria che è veramente in uno stato di grazia da diversi mesi ha giocato una partita corretta in mezzo al campo ha fatto un gol bellissimo però chi ha tirato sul milan davvero dopo il vantaggio della juventus dopo quel momento in cui la juve premeva forte è stato raffaele a raffaele a che si è costruito un'occasione bellissima in grande stile e che ha servito l'assist per il gol di calabria raffaele a che ha giocato da centravanti perché non c'erano fondamentalmente alternative questo questo porta ancora un po al ragionamento originario raffaele a o punta o esterno non è importante quello io continuo ad essere convinto che l'evoluzione di un raffaele a o che diventa giocatore importante è lì è come numero 9 numero 9 ovviamente non statico ma mobile è uno che si può aprire che si può interscambiare con un esterno di centrocampo nello specifico l'esterno sinistro che possa andare dentro a fare la punta la coppia le aurebic mi sembra una coppia potenzialmente molto interessante ancora con margini di crescita perché le a o deve deve diventare più continuo non solo di partita in partita ma anche all'interno della partita ancora una grossa percentuale di potenziamento disponibile raffaele a o però questo questo è un giocatore significativo un giocatore sempre più importante ed è un giocatore con con prospettive possibili non so se da fuori classe totale ma da giocatore molto molto importante sì e questo è un riscontro un riscontro che vale per pioli a patto e lo dico per la terza volta che questa sconfitta venga assorbita immediatamente perché perché poi queste situazioni si possono superare con l'entusiasmo con con la fiducia con tutto quello che il milano ha mostrato finora e che non decade per una sconfitta contro contro la juventus oltretutto la squadra campione d'italia da nove anni consecutivi però deve essere subito ripresa la partita col torino di sabato sera è una partita un po insidiosa perché comunque non so se ci saranno tanti recuperi pioli dopo la partita ha parlato della situazione di ibraimovic che tornerà probabilmente per quella successiva anche se potrebbe esserci la possibilità di recuperare zlatan ibraimovic magari per una porzione della partita contro il torino rientrerà sicuramente dalla squalifica tonali di conseguenza si tornerà avere una una conformazione un po più consueta ultimo spunto che voglio portare per chiudere il discorso su mila juventus è ancora una volta parlare parlare di chiesa e parlare di quanto sia stato decisivo in questa partita ma di della portata del messaggio che ha dato chiesa e non tanto per il discorso che sta facendo a destra rende meglio che a sinistra io credo che possa andare su entrambe le fasce credo che la sua fascia più naturale sia quella di destra e credo che anche alla juventus serva un po di più a destra che non a sinistra perché c'è l'incrocio di piste con cristiano ronaldo ma chiesa perché è un giocatore determinante perché è un giocatore molto veloce perché è un giocatore che ha compreso mentalmente l'importanza del momento di questo trasferimento e di questo trampolino per stabilizzarsi nel livello alto dei giocatori della serie a perché è uno che tatticamente ti può fare un lavoro determinante e la partita si è decisa a favore della juventus perché il duello più più determinante più più decisivo della partita ovvero quello fra chiesa e teo hernandez è stato vinto chiaramente e totalmente dal giocatore della juventus che non solo ha infilato teo hernandez e ha fatto due gol sul primo poi si vede proprio la la vittoria nella nel duello individuale nella singola artenzone ma è riuscito anche ad assorbire la possibilità che teo hernandez diventasse come quasi sempre accade l'uomo in più nell'attacco del milan per cui un giocatore così giovane appena arrivato alla juventus che vince un duello così determinante contro un giocatore così forte da un messaggio da un messaggio veramente veramente grande per cui la juventus ha vinto san siro la juventus c'è assolutamente nella lotta per il campionato il milan pur perdendo la sua prima partita rimane in vetta di conseguenza grosso scossone alla serie a ma non cambia nulla perché il milan rimane al comando per il fatto che l'inter nell'ennesimo giorno in cui si profettizzava il sorpasso in vetta la classifica ha finito per fare una stecca una stecca importante una stecca che in pochi si aspettavano perché in un calcio dove non si può dare nulla per scontato dove non esiste fattore campo dove non esistono partite facili dove non esiste previsione possibile si pensava insomma che la samdoria potesse essere un avversario adeguato per infilare la nona vittoria consecutiva e invece no la samdoria ha fatto uno scherzo importante all'inter però adesso vi voglio parlare di quello che ho visto per per dimensionare il passo falso dell'inter perché vi dico questo perché io credo di poter dire che quella di ieri amarassi sia stata la sconfitta meno brutta della stagione nerazzurra il non risultato meno deprecabile della dell'annata dell'inter fra champions league e campionato perché l'inter ha perso amarassi grandi meriti della samdoria grandi meriti della samdoria che rispetto alla partita scorsa ha avuto anche una fase più attiva di proposizione di gioco la samdoria è stata molto brava a scappare sul 2-0 nel corso del primo tempo con il talento di alcuni suoi giocatori damsgard è un giocatore che mi piace sottolineare ve l'avevo detto prima dell'inizio del campionato questo è un ragazzo molto giovane che deve chiaramente adeguarsi adattarsi al calcio italiano che deve crescere ma è un ragazzo che ha talento e che ha concretezza l'azione che fa sul gol di keita è l'azione di un giocatore di un giocatore importante di un giocatore di alto profilo sia per come difende palla nella zona centrale che per come si apre l'orizzonte poi ci sono degli errori difensivi dell'inter la mancata aggressione di brozovic che diffidato temeva il cartellino giallo e dunque di saltare la partita con la roma l'errore concettuale di bastone che invece di arretrare di temporeggiare di scappare per non dare profondità damsgard rimane lì impalato cerca di aggredire in avanti ma è solo una bozza in movimento e viene infilato ci sono degli errori ma c'è soprattutto l'abilità di questo ragazzo poi anche quella di keita prima aveva segnato candreva un altro ex con il dente un filo avvelenato però questi due gol della sampdoria questi meriti che ci sono stati è un merito anche avere un portiere che è il migliore in campo perché ovviamente il portiere fa parte della squadra quindi audero che è stato il migliore in campo nella partita di marassi è un merito da scrivere ancora la formazione ranieri che ha una classifica veramente bella che ha una classifica meritata e che ha una classifica che premia il lavoro di questo allenatore e di questo gruppo però ecco chiuso il discorso i meriti della sampdoria arriviamo a quali sono i veri demeriti dell'inter i demeriti dell'inter ci sono perché poi quando perdi una partita hai dei demeriti però l'inter ha avuto un calcio di rigore in apertura di gara che poteva cambiare completamente la situazione il rigore l'ho attirato l'ho sbagliato alexis sanchez e anche qua si parla molto del del perché sanchez abbia tirato un rigore effettivamente uno che ha sbagliato due terzi dei rigori che ha tirato in carriera non è forse il miglior rigorista della squadra e probabilmente se ci fosse stato in campo lukaku vista invece la sua grande precisione dal dischetto il pallone ripeto probabilmente che nel calcio vale zero il pallone sarebbe entrato se l'inter fosse nato in vantaggio subito avrebbe sempre probabilmente gestito la partita però questo è un episodio è un episodio importante all'interno dell'analisi del match così come il fatto che si sanchez ha sbagliato il rigore ma young sul tap in colpisce un palo che che poteva essere gol quindi degli errori individuali ma anche una buona dose di giornata storta diciamo perché poi l'inter ha giocato l'inter ha creato tanto ha avuto delle occasioni ha trovato appunto di fronte un grande audero io ho visto l'inter non fare il risultato in questa stagione con con delle prestazioni decisamente inferiori a volte anche fare il risultato con delle prestazioni decisamente inferiori rispetto a quella di malassi per cui adesso il rinfocolarci dei discorsi contro antonio conte contro questo non è il momento di fare questi più discorsi l'allenatore dell'inter il progetto tecnico è stato da criticare in certi momenti in questo direi di no perché è una partita una sconfitta figlia delle contingenze delle situazioni poi ripeto ci sono degli errori ancora una volta un calcio di rigore causato da un centrocampista che sbaglia in area di rigore era stato così per vidal contro il crotone e vidal infatti ha pagato qualche conseguenza è stato così per barella contro la sampdoria un fallo sciocco quello che porta al rigore di candreva un braccio troppo largo e poi c'è questa situazione della difesa che continua a concedere un po' troppi gol però attenzione l'inter ha subito 21 gol in questo campionato non sono sicuramente pochi soprattutto per una scuola di antonio conte però sono due gol subiti in più del milan non è che siano così tanti sono tre gol subiti meno rispetto alla roma per cui l'inter si prende dei gol ma li prendono tutti è un campionato in cui segna molto di più rispetto agli standard normali quello che ci sarebbe da dire sulla difesa dell'inter è piuttosto che questa conformazione fatta da giocatori è un discorso che già vi facevo forse la settimana scorsa fatto da giocatori che sono assolutamente dei giocatori di riferimento devrai e screener senza dubbio lo è sempre più anche bastoni però sono giocatori che se stanno alti sul terreno di gioco se la squadra vuole avere un grado di aggressività superiore e un baricentro più alto soffre perché sono tutti giocatori che non hanno una spiccatissima velocità di base e sono giocatori che con la palla alle spalle possono essere attaccati e l'inter prende tanti gol per situazioni del genere poi ripeto l'aiuto dei centrocampisti spesso non è lucidissimo però il problema dei gol subiti è un problema se lo rapportiamo alle abitudini date da antonio conte non se lo rapportiamo ai numeri di questo campionato per cui dico è stato più un qualcosa di gigantesco per l'inter riuscire a fare otto vittorie consecutive in questo calcio certo quello che insomma mette un po di sale sulla ferita è il fatto che ancora una volta l'inter non abbia sfruttato l'occasione per andare in vetta alla classifica adesso l'inter ha il momento decisivo perché l'inter affronta la roma e poi affronta la juventus questi sono due scontri diretti che l'inter non può fallire se l'inter farà risultato contro roma juve la sconfitta di marassi finirà assolutamente nell'elenco degli incidenti senza senza conseguenze se invece l'inter perderà il passo allora allora la situazione andrebbe ad appesantirsi perché è inutile negare che l'inter abbia quasi il dovere di vincere questo scudetto o di essere in corsa per vincerlo fino all'ultimo pallone di questo campionato perché quello che successe in europa da ancor di più questi doveri alla squadra di conte e all'allenatore per cui per cui l'inter è comunque a un punto dal milan l'inter rimane una squadra molto forte l'inter recupererà anche al pieno della propria forza lukaku che è un giocatore logicamente determinante come lo è ronaldo per la juventus come lo sono i grandi campioni per per le loro squadre come lo è messi per il barcellona ieri sera in tutto ciò c'è stato anche il match fra atletic bilbao e barcellona e messi ha calato una doppietta e ha regalato la vittoria alla propria squadra è normale lukaku poi è entrato ma l'inter senza lukaku non è che perda del potenziale di gioco anche se lukaku è centrale per questa squadra perché ripeto la prestazione c'è stata come c'era stata altre volte senza lukaku l'inter senza lukaku perde un giocatore che le partite te le fa vincere però anche questo è un messaggio che risce da marassi l'inter non è propriamente lukaku dipendente lo è nella misura in cui lukaku è un giocatore così forte così determinante così continuo che nelle partite risulta decisivo però ripeto la cosa veramente negativa di sampdoria inter in casa nerazzura è il risultato per il resto è stata una partita che è girata in questo modo però è una partita che non solo non fa superare non permette all'inter di superare il milan ma fa avvicinare la roma che continua ad essere il vero potenziale terzo incomodo di questo campionato perché la roma è una squadra che gioca bene perché la roma è una squadra forte perché la roma è una squadra allegra perché la roma è una squadra molto ben allenata cosa che vi dico da diverso tempo ed è una squadra che ha continuità di risultati la roma ha vinto 3 a 1 a crotone senza i suoi due giocatori più determinanti ovvero gioco che è entrato solo negli ultimi minuti e spinazzola spinazzola è fuori forse sembra esagerato definire spinazzola uno dei due giocatori più determinanti della roma ma vedendo le partite della roma si capisce quanto sia importante questo questo laterale sono un po facendo le proporzioni l'ibraimovic e il tevernandes del milan gecko e spinazzola per la roma però ci sono delle soluzioni anche per queste essenze la soluzione l'ha portata borca majoral che ha segnato la sua prima doppietta italiana una doppietta fatta d'opportunismo prima sull'ennesimo assist di mkhitaryan che poi ha segnato a questo punto a quota 15 fra gol fatti e gol propiziati con passaggi vincenti e continua ad essere uno dei giocatori più decisivi del campionato il secondo gol è stato una una prodezza personale dell'attaccante spagnolo che indubbiamente come vicegeco aumenta il valore della rosa rispetto all'anno scorso quando il vicegeco era nicola kalnic ma poi la roma continua a gonfiarsi di cose si gonfia con vigliar altro elemento molto lavorato da fonseca altro elemento che sta fiorendo e altro elemento che va sulla continuità di un'idea chiara di calcio un'idea alta e un'idea che funziona vigliar è diventata la prima alternativa alla coppia pellegrini veretù e ha scavlecato di avarà quindi un giocatore che sa anche avere sostanza ma soprattutto di costrutto che arriva davanti a un giocatore di rottura e questo vuol dire che la roma riesce a garantire sempre un calcio spumeggiante poi le controindicazioni o le problematiche da superare sono fondamentalmente due una è data dal fatto che questo ambiente continua sempre a essere caratterizzato da correnti eccessiva negatività in certi casi e a volte anche eccessiva euforia questa è una cosa da tenere a bada bisognerà vedere come secondo me l'allenatore è una discreta garanzia perché si vede un gruppo forte si vede un gruppo convinto si vede un gruppo assolutamente allineato ai dettami del proprio allenatore e anche con piena fiducia nel calcio di fonseca l'altro grave problema della roma in questa stagione e la riprova ce l'avremo subito sono gli scontri diretti perché in un calcio del genere così così equilibrato così complicato in ogni suo passaggio aver la garanzia di vincere le partite con le squadre di rango inferiore è una garanzia importante perché fa massa di punti però poi gli scontri diretti decidono e la roma fino adesso negli scontri diretti non ha trovato successi anche se poi col milan ha pareggiato e pareggiare col milan contro questo milan è comunque un riscontro è stata una partita molto particolare anche a livello di gestione degli episodi però col milan ha pareggiato con la juventus ha pareggiato è vero poteva vincere però non ha perso con napoli c'è stato un brutto passaggio a voto e anche con l'atalanta adesso c'è roma inter e roma inter di domenica alle 12 30 sarà sarà una una super partita e sarà una partita anche molto importante direi quasi più per la roma che per l'inter perché se la roma dovesse vincere allora a quel punto prenderebbe una dimensione molto credibile anche per il massimo dei giochi è detto che probabilmente qualcosina dal mercato ci vorrebbe per sistemare qualche situazione la situazione penalizzante per la roma è quella del portiere perché non c'è un portiere che dia garanzie complete mirante per alcuni motivi paul lopez per altri questa questo è il punto debole probabilmente della roma quindi qualcosina sul mercato si potrebbe aggiustare però con questo gioco con questi interpreti con questa capacità se la roma vince anche gli scontri diretti allora l'orizzonte si deve allargare ulteriormente vedremo vedremo quello che succederà ripeto roma inter di domenica alle 12 30 ma anche milan torino che poi la partita che commento io nel weekend prossimo per cui tendo a sottolinearla continuare a sottolinearla sono due partite veramente veramente molto importanti per per l'alta classifica così come juventus sassuolo perché perché il sassuolo comunque come vi dicevo il suo passo lo tiene è quinto in classifica in una zona però in cui è attorniato da squadre con una gara in meno che sono la juventus in napoli e anche l'atalanta che deve recuperare la partita contro l'udinese e lo farà nel giro di un paio di settimane se non sbaglio il 20 di gennaio ha fissato il recupero di quella gara che non si disputò per per mal tempo però nel frattempo il sassuolo e con un pochino di incostanza magari con qualche faro acceso in meno rispetto alla prima parte di stagione sempre con qualche problemino perché ieri si è fatto mare berardi il sassuolo rimane lì con il suo bel pieno di punti il sassuolo ha battuto genoa ripeto con anche l'uscita di berardi che era stato il giocatore più continuo e più determinante della stagione fin qui con il gol di raspadori che è un altro ragazzo che sgorga dalla fonte calcistica di de zerbi con il gol di bogà gol bello anche di bogà e bogà è stato un fattore fin qui non sfruttato per il potenziale che ha dal sassuolo perché la sua prima parte di stagione è stata complicata quindi l'incrocio fra juventus sassuolo dopo la dimostrazione di san siro è un'altra chiamata molto esigente per la squadra di pirlo abbiamo un gran bel weekend di campionato e queste sono le tematiche delle prime quattro della classifica anzi delle prime cinque perché ci abbiamo inserito anche sassuolo che appunto ha battuto un genoa che continua ad essere abbastanza zavorrato lì in fondo alla classifica segnalo il gol di shomuro dov che è un ragazzo che ho visto giocare anche dal vivo e che mi ha dato delle impressioni però però genoa ha bisogno di qualcosa in più per poter essere tranquillo a tutto ciò si aggiunge il grande assente nelle prime cinque della classifica ed è il napoli il napoli ha perso una partita assurda contro lo spezia perché il napoli ancora una volta ha tirato tantissimo 23 tiri sono stati contati 10 nel primo quarto d'ora e il napoli non è riuscito a vincere questa partita gattuso dice che c'è una sorta di frenesia una sorta di impreparazione mentale della squadra ad essere una squadra che sa gestire le partite prima parlava di assenza di veleno quello che si vede nel napoli è che sicuramente mancano dei riferimenti manca osimen manca mertens petagna sta facendo veramente un lavoro e una stagione incommiabile perché per essere fondamentalmente l'ultimo nelle gerarchie offensive del napoli sta dando un contributo molto importante così come danno un contributo importante i vari lo sanno i vari insigne al di là degli errori insigne l'ho visto abbastanza abbattuto dopo la partita per gli errori che ha fatto ci può stare ci può stare il contributo c'è quello che non c'è da parte del napoli appunto la capacità di essere una squadra cinica di essere una squadra che gestisce la partita come ha detto gattuso si può accettare che lo spezia tra l'altro forse davvero il peggior spezia della stagione perché come ha detto con grandiosa onestà intellettuale italiano lo spezia tante volte ha giocato molto meglio raccogliendo meno è andato a prendersi una vittoria storica in casa del napoli tra l'altro in inferiorità numerica con una partita di certo non non esaltante ma una partita che che uscita in questo modo che premia il carattere dei liguri ed è un carattere importante è un carattere associato comunque a un'identità a una filosofia di gioco e guarda caso i punti arrivano perché lo spezia fuori dalla zona retrocessione però il napoli le parole di gattuso mi hanno colpito per questo ve le sto riproponendo molto il napoli è incapace di gestire le partite incappa in errori veramente sciocchi come quello del calcio di rigore regalato allo spezia si fa prendere un po dal panico commette questi errori e il napoli sta buttando via diversi punti per il napoli è determinante andare a far risultato a torino perché senza quel risultato la distanza dalla vetta sarebbe sarebbe piuttosto imponente anche se non siamo neanche al giro di boa per cui nulla di definitivo così come attenzione perché sta tornando l'atalanta e non diamo per definitiva l'assenza dell'atalanta per i giochi di massimo vertice l'atalanta ha perso del tempo l'atalanta ha avuto dei problemi l'atalanta se li ha anche un po creati in certe situazioni però adesso l'atalanta è tornata è tornata paradossalmente senza l'uomo simbolo del suo ciclo è tornata con i gol di sapata e i gol di moriel non sono fondamentalmente mai andati è tornata con la continuità realizzativa di gossens è tornata con questo suo calcio turbinante che ha fatto una vittima una vittima ieri una vittima che probabilmente era già disegnato ovvero liverani perché il suo parma ha perso ancora 3 a 0 e liverani è stato allontanato torna da versa è un cambio che sembra un ritorno al passato in realtà è un aver buttato via dei mesi perché il calcio di liverani è molto diverso da quello di da versa però il parma non entrava in moto parma siano solo 13 gol in questo avvio di campionato è cambiata troppo la squadra è troppo tempo necessario per impiantare un calcio come quello di liverani vedremo se da versa riuscirà a trovarla svolta per me il parma è una squadra con delle carenze significative una squadra destinata a sgomitare fino alla fine per per evitare la retrocessione però intanto l'atalanta il risultato lo ha fatto e conferma e soprattutto se vincerà il recupero contro l'udinese di essere squadra da considerare per i giochi di champions ne abbiamo decisamente tante da considerare a questo punto non so se avremo da considerare anche la lazio perché la lazio si ha vinto una partita importante contro la fiorentina tra l'altro con il gol simbolico di caicedo avvicinato proprio alla fiorentina ha giocato titolare ha segnato subito poi segnato immobile quella invece non è notizia però è un gol simbolico io non credo che caicedo vado via dalla lazio sarebbe una mossa un po un po autolesionista da parte di bianco celesti però la vittoria è arrivata il problema è che ne devono arrivare un po in serie per per recuperare terreno così come dovrebbero arrivare dei risultati per la fiorentina la fiorentina continua a preoccuparmi abbastanza è una squadra che non ha trovato la svolta con il cambio in panchina è una squadra che oltretutto ha perso ribelli per infortunio è una squadra che dovrebbe cambiare parecchio sul mercato trovare una conformazione un po più pratica e non arriva per cui per cui io temo che il campionato della fiorentina sarà questo e ripeto c'è una partita contro il cagliari drammatica drammatica nel prossimo turno perché anche il cagliari sta perdendo del terreno anche il cagliari si sta arrovellando su se stesso ha perso la partita contro il benevento che ha aperto il turno grandi tanti enormi complimenti a inzaghi e la sua squadra squadra vera squadra di qualità squadra che ha vinto l'anno scorso il campionato di b come ha stranato inzaghi battendo ben otto record club che è maturato negli ultimi anni allenatore che ha fatto la gavetta e squadra che trova delle soluzioni perché poi ha i giocatori giusti nei posti giusti cerca probabilmente una punta che possa dare un po più di qualità un po più di capacità realizzativa davanti perché poi anche il benevento ha perso dei punti contro il sassuolo e contro il milan avendo tirato tantissime volte in porta però quando hai un giocatore come schiattarella mezzo al campo un vero organizzatore di gioco quando hai elementi che si adattano a tante situazioni i risultati vengono e i risultati del benevento sono straordinari i risultati del cagliari invece sono preoccupanti il cagliari sta cascando il cagliari solo ha più due rispetto a parma e torino che sono le due squadre che galleggiano sulla sulla linea rossa sulla linea della zona retrocessione quindi occhio al cagliari perché se il cagliari non fa risultato a firenze allora la posizione di francesco potrebbe complicarsi molto e allora la classifica potrebbe diventare veramente scottante mancano due partite da citare una è quella del torino contro la las verona uno a uno il torino sognava di poter infilare la seconda vittoria consecutiva avrebbe fatto un po decollare granata ha rischiato però di perdere per l'euro gold di di marco giocatore che ha veramente un piede importante e che sta facendo un grande campionato giocando da laterale giocando da terzo di difesa è entrato nel calcio di juri c'è un giocatore che sta scatenando il proprio potenziale ha fatto un col meraviglioso di marco il torino però pareggiato la partita con bremer negli ultimi sei minuti mi pare che il gol sia arrivato all'ottantaquattresimo e questo è un altro segnale è vero per il torino un altro mezzo passo incompleto mettiamola così in casa dove non ha ancora vinto il toro in questo campionato perché le due vittorie sono arrivate in trasferta a marassi contro il genoa e al tardini contro il parma però il torino è stato caratterizzato nel suo avvio orribile di campionato dal fatto di andare in vantaggio e di farsi rimontare stavolta la partita la rimontata e questo penso che sia un segnale è in una partita non entusiasmante da parte del toro però però è un punto è un punto che comunque lo tiene agganciato alla zona salvezza e ha ragione giampaolo quando dice che i lavori passi avanti da fare la svolta da trovare è veramente enorme per questa squadra per cui è normale non non sbloccarsi da un momento all'altro mattoncino per mattoncino il torino se che ha bisogno di un mercato decisamente corposo a gennaio soprattutto per fare un restyling totale del centrocampo le cose cominciano ad arrivare anche se la partita contro il mina non è la partita più semplice da affrontare nel weekend mentre nell'ultimo match per completare il quadro di questo turno è il match che ho commentato io una partita pazza fra bologna udinese due squadre che hanno iniziato la giornata abbastanza tranquilla il bologna più 5 sulla zona retrocessione l'udinese più 4 con una partita da recuperare seppur con l'atalanta hanno fatto 2 a 2 e si ritrovano a non aver fatto il salto in alto e ad essere lì ma ad essere lì a guardarsi le spalle a leccarsi un po le ferite a cercare di capire perché questa stagione non svolta per il bologna la partita è stata segnata dall'espulsione di swanberg perché il primo tempo del bologna è stato un primo tempo buono come era stata buona la prestazione di firenze come era stata buona la rimonta sull'atalanta bologna che ha quota 5 pareggi consecutivi non perdere importante però però qualche passo in più va fatto il bologna è andato in vantaggio con tomiaso è stato ripreso da pereira su un altro errore del portiere da costa la situazione dei portieri del bologna è vero skorupski e ravaglia sono infortunati però la situazione dei portieri è un po limitante per la squadra di mihailovic chi ha ritrovato il vantaggio con un bel gol di swanberg bello soprattutto per l'azione il lavoro di palacio e la sponda di barrow poi swanberg si è fatto speller al secondo minuto del secondo tempo e da lì il bologna si è rintanato nella propria area di rigore e l'udinese lo ha saltato da tutti i lati l'udinese che aveva giocato un primo tempo quasi da encefalogramma tecnico piatto tant'è che attorno alla mezz'ora gotti ha fatto una sostituzione gotti aveva tre quarti di attacco fuori è partito con forestieri al fianco di lasagna poi ha tolto nell'italo argentino forse anche un piccolo fastidio ma ci poteva stare anche tecnicamente questo cambio ha messo nestorovski perché la squadra non si esprimeva e quando è rimasto in superiorità numerica all'udinese invece ha dominato la partita ancora una volta ha creato tantissimo poi è riuscito a pareggiare al 92esimo col tiro di aslan deviato da chichi ma il problema principale dell'udinese è la concretizzazione e anche la generosità dietro c'è una statistica che è molto in voga fra quelli del settore e che io non cito mai perché è un po complicata la utilizza anche poco è la statistica degli expected goals forse ne avete sentito parlare qualche volta per farla breve per non complicarla praticamente una statistica che indica quanti sono i gol meritati da una squadra a seconda di calcoli zone del campo in cui avvengono le azioni comunque è una classifica che definisce il merito di una squadra quello che si può aspettare a questa squadra sia in tema di gol fatti che in tema di gol subiti bene l'udinese è quella che ha la più grande differenza in negativo fra gli expected goal segnati quindi i gol che dovrebbe segnare per il gioco che fa e quelli che effettivamente realizza e anche la più grande differenza fra i gol che dovrebbe prendere per come difende e quelli che effettivamente prende questo vuol dire che c'è un problema chiaro nelle nelle due aree di rigore fondamentalmente perché per il resto tolto il primo tempo nel secondo tempo l'udinese ha scerinato sul campo grande qualità mandragora depol pereira sono giocatori che ti fanno giocare a calcio molto bene lo stesso arslan è per essere un mediano è un giocatore di costrutto ha trovato suo secondo gol in campionato l'udinese ha potenzialmente degli esterni che arrivano sono partiti striger larsen e zegelar e sono subentrati in molina e hawaiian all'udinese manca manca uno che la butti dentro manca manca un attaccante importante lasagna ha segnato un solo gol quest'anno da subentrato tra l'altro contro il cagliari un gol credo nelle ultime 19 partite di campionato per per lasagna e gotti ha offerto una chiave di lettura interessante secondo lui è uno che si fa prendere un po troppo dalla negatività che con un po più di serenità un po più di ottimismo potrebbe sfruttare le sue le sue grandi doti però questo rimane il limite il limite dell'udinese ed è un limite che sta ancorando una squadra potenzialmente di qualità anche ben allenata nella parte bassa della classifica l'udinese ha bisogno di fare punti adesso ha un calendario molto denso affronta il napoli ha un recupero con l'atalanta ha un'altra partita grande mi pare con l'inter non vorrei sbagliarmi comunque tre delle prossime quattro partite dell'udinese condensate in uno spazio molto stretto sono tre partite ai limiti del proibitivo può complicarsi molto la classifica dei friulani ma fondamentalmente quello che ci ha detto questo turno della befana è che può sempre succedere di tutto in questa fantastica serie a abbiamo un weekend come vi dicevo incandescente alle porte perché sabato la partita fra genoa e bologna è una partita molto importante milan torino sabato sera roma inter ad aprire il programma della domenica juventus sassuolo a chiuderlo e anche uno sfizioso posticipo derby ligure fra la spesa fra lo spezia e la sampdoria per cui torneremo a parlare fra pochissimo di serie a perché il calcio ci chiama e sicuramente continuiamo a divertirci ci risentiamo prestissimo qui insieme sul nostro canale Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti